Ma lo sai che sui tuoi reel adesso puoi mettere la musica originale? E devo dire che è davvero molto 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 semplice. Entriamo nel nostro Instagram e andiamo a creare il nostro nuovo reel. Andiamo in registrazione oppure carichiamo un video che abbiamo già fatto precedentemente. Una volta terminato andiamo in antiprima, andiamo in alto dove ci sono le note musicali, andiamo sotto musica, in porta e importiamo il video con la musica che ci piace e che vogliamo inserire nel nostro reel. Io in questo caso ho messo una parte dove io sto suonando la chitarra. Una volta terminato lo spostiamo dove vogliamo metterlo noi, alziamolo ed abbassiamo i volumi qualora dovessimo avere anche una voce, andiamo avanti e condividiamo il nostro reel. Beh penso che sia veramente molto molto utile per quelle persone che vogliono magari fare dei video emozionali con delle proprie musiche sotto, magari qualcosa con la chitarra come ho fatto io prima. Quindi secondo me sarà una funzione davvero davvero utilissima. Se ti è piaciuto questo reel mi raccomando metti un mi piace, scrivimi in direct se hai bisogno di qualsiasi cosa e mettimi anche un commento che a me fa sempre piacere. Ci vediamo al prossimo reel. Grazie. 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 Grazie.